La fase di montagna del percorso include le rocche, l'avalanche, l'esercito del clima falla in crevassi e i pericoli dell'altitudine e del cuore Tutti questi rischi sono presenti sulle montagne Danga Parva è conosciuto come la montagna killer Due al fatto che 31 persone morirono in attenzione di ascoltare la montagna prima del 1953 L'angar Parva è il più pericolo dell'8000 metà con una risposta di 22% di ascoltatori morti mentre ascoltando questa montagna Calculazioni fatte da molti climberi show Nanga Parva ha aggiunto 339 succesi full ascent al summit e 69 morti Calculazioni fatte da catturazioni Caicchio è il secondo tempo di lungo l'esercito Calculazioni che non sono stati aiutati Calculazioni di più Calculazioni di calculazioni Calculazioni di calculazioni E' considerato uno dei dei più gruele in calculazioni del mondo e perché nemmeno 4,000 persone avevano tentato l'Everest, solo 350 avevano cercato di il K2. L'infamous 2008 K2 disaster ha uccidato 11 montanari da un'espedizione internazionale in solo un giorno. Il K2 è conosciuto come la montagna di savagia dopo il George Bell, un vecchio pesante, ha detto che è una montagna di savagia che tenta di uccidere. Il Nepurna 1 è uno dei 10 ottimi guest del mondo. Il Nepurna è il più alto di fatale di 8 giorni del mondo, e 10 subito di 8,000 metri tall. 191 climbers avevano subito l'Everest e circa 63 ha morto di ascoltare, rendendo un'espedizione di fatale di 33%, il più alto di una montagna di 8,000 metri. e anche un'espedizione di 4,400 metri. Un'espedizione di 100,400 metri. Un'espedizione di 50,000 metri che trovare un'espedizione di 50,000 metri. Grazie a tutti.